Ridefinire i piani regionali di prevenzione delle infezioni ospedaliere per giungere alla progressiva riduzione del tasso di infezioni registrate nelle strutture sanitarie della Basilicata e l'impegno sollecitato con una mozione dai consiglieri regionali del PDL Forza Italia, Michele Napoli e Paolo Castelluccio al governo regionale. È un tema molto sensibile, ha sottolineato Napoli, perché ha effetti devastanti sul servizio sanitario. Chi è infetto sarà costretto ad ulteriori cure e questo genera un forte impatto economico. A pesare sulla bilancia le conseguenti azioni di risarcimento danni, stimate da uno studio del Sole 24 ore in 59.000 euro pro capite. Citando i dati diffusi dal Ministero della Salute sulle dimissioni ospedaliere riferite al primo semestre 2015, Napoli ha fatto presente che in Basilicata si registrano 328 casi di infezioni ospedaliere. Siamo la seconda regione in Italia, dopo l'Emilia Romagna, che però ha un bacino d'utenza molto più vasto. Ma prendendo in esame il periodo dal 2009 ad oggi, la Basilicata risulta al vertice della classifica delle regioni. Gli esponenti politici hanno poi fatto riferimento all'istituzione del Comitato Infezioni Ospedaliere e alla redazione dei piani per contrastare il fenomeno, in cui i dati, hanno sottolineato, non si capisce perché non si conoscono. A questo punto, se non ci saranno risposte da parte del governo regionale, chiederemo l'istituzione di una commissione d'inchiesta che faccia piena luce sul fenomeno delle infezioni, anche per le implicazioni riguardanti i cosi del servizio sanitario e i rischi per i pazienti.